Su un'area di 1.400 metri quadrati in via comunale Santa Croce a Chiaiano nasce la nona delle 10 attività di impresa finanziate per i giovani dal comune con il progetto sviluppo Napoli. E' il primo green parking della città, un parcheggio a disposizione dei residenti che possono godere anche dei frutti degli alberi recentemente piantumati. A gestirlo saranno i tre fratelli ereditari del fondo che dopo averlo sottratto ad incuria e degrado hanno scelto di aprirlo agli abitanti della zona ospitando una ventina di posti auto. Era un terreno che abbiamo ereditato dal nostro nonno, era un terreno abbandonato completamente verde e questa parte principale era tutto purtroppo in stato di abbandono mentre la parte che dà sulla strada diventa una discarica abusiva. I residenti del territorio possono parcheggiare l'auto e c'è il fruit sharing, in effetti oltre a parcheggiare l'auto loro possono raccogliere proprio di persona i frutti del terreno. Ne abbiamo delle ciliegie, abbiamo dei mandarini, abbiamo dei limoni, abbiamo delle arance in modo da poter utilizzare sia il servizio di parcheggio che poi prendere i frutti del terreno. Ogni frutto del parcheggio avrà il suo posto assegnato, insomma è una start up chilometri zero fatta da noi in effetti. L'attività realizzata con il contributo di 20.000 euro è stata inaugurata questa mattina alla presenza dell'assessore alle politiche giovanili Alessandra Clemente ed aderirà al consumo critico e all'associazione anti-racket e anti-usura italiana. Sviluppo Napoli è un bando, il cuore di questo progetto è una frase, se non credi in te la città nella quale sei nato chi dovrebbe farlo? È un contributo vivo all'impresa, 20.000 euro e attraverso le richieste progettuali oggi noi siamo qui a raccontare una storia di una famiglia e questo terreno era abbandonato e grazie al loro impegno e grazie a questo progetto adesso è una start up innovativa. Era diventato un luogo di sversamento di rifiuti e abbiamo lavorato soprattutto attraverso un anno in salita anche ad abbattere una burocrazia, quella burocrazia che alcune volte rallenta lo sviluppo di impresa. Abbiamo dato vita ad uno sportello con la polizia locale della città di Napoli affinché tutta la pratica potesse rispettare le normative ed oggi questo è il primo biopark della città di Napoli. È un luogo dove poter parcheggiare la propria auto ma anche raccogliere i frutti dell'orto che è stato qui installato. Il Comune di Napoli attraverso questo progetto quindi vuole mettere le ali ai progetti imprenditoriali dei giovani di Napoli perché Napoli bisogna restare e soprattutto si può fare impresa di qualità.